Edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca mazzette per truccare Gli appalti in Abruzzo e questa è la principale accusa che all'alba di questa mattina ha portato agli arresti domiciliari Sette persone nell'ambito dell'operazione denominata Masterlist I provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, sono stati eseguiti dalla squadra mobile dell'Aquila Tutti i particolari nel servizio di Daniela Rosone L'operazione si chiama Masterlist e parla ancora una volta di appalti truccati Sette arresti ai domiciliari ad eseguirli nelle province dell'Aquila, Taramocchieti e Pescara La squadra mobile del capoluogo coordinata dal dirigente Tommaso Niglio su input della procura di Avezzano I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e rivelazione di segreto d'ufficio A finire in manette ai domiciliari Antonio Ruggeri di Avezzano che è stato anche a capo della residenza sanitaria Exompi dell'Aquila, ex dipendente del Vaticano Sergio Giancaterino di Penne, imprenditore etile ed affidatario di molti appalti pubblici Antonio Ranieri, aquilano, pubblico ufficiale con incarico di ruppo nel comune di Campotosto E ancora Paolo Di Pietro, consigliere di maggioranza ed ex vice sindaco del comune di Canistro Giuseppe Venturini di Tagliacozzo, amministratore della società CAM Giuseppe D'Angelo, sindaco del comune di Casa Canditella nel Chietino Ed infine Emiliano Pompa, imprenditore di Montorio a Vomano I PM titolari dell'inchiesta sono Roberto Savelli e Maurizio Maria Cerrato I comuni passati al setaccio sono stati diversi Nel caso di Canistro l'inchiesta parlerebbe anche di appalti per i lavori ai cimiteri nei tempi in cui Di Pietro era assessore ai lavori pubblici con il sindaco Antonio Di Paolo In un altro filone dell'inchiesta, nel milione della procura, anche appalti nei comuni di Ovindoli, Cappadocia e Cerchio Stamattina intanto sono arrivate le dimissioni di Giuseppe Venturini da amministratore delegato del CAM Ad innescare e dare il nome all'inchiesta è stata tra le altre cose una lista di ditte che per l'accusa si dovevano spartire numerosi appalti sia in provincia dell'Aquila che nel resto della regione scritte in un'agenda sequestrata nell'ambito della perquisizione effettuata ai danni di Gian Caterino Secondo gli investigatori il meccanismo più usato era quello di rispondere alle gare con le ditte d'accordo con chi avrebbe dovuto vincere tra loro stabilendo assieme il massimo ribasso L'obiettivo era far partecipare tutto l'elenco delle ditte e far ruotare i vincitori Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche l'accordo relativo alla gara per il municipio di Canistro appalto da 480 mila euro 20 mila euro sarebbero andate alle ditte e agli amministratori attraverso contributi e consulenze L'appalto poi però non andò a buon fine Le indagini hanno riguardato anche il comune di Campotosto nell'Aquilano in particolar modo l'appalto per la manutenzione dell'area di campeggio e della struttura del centro velico Le aste pubbliche bandite dall'Unione dei Comuni delle Colline Tlatine di cui il comune di Casa Canditella è capofila A tal proposito al centro dell'inchiesta ci sono i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande del comune di San Martino sulla Marrucina e ancora a Capistrello la gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore eseguiti dal CAM Andiamo adesso a parlare dell'omicidio Bevilacqua perché ieri c'è stato l'interrogatorio per Massimo Fantauzzi il 46enne di Montesilvano accusato dell'omicidio di Antonio Bevilacqua nel Ristopab Birrami Le dichiarazioni di Fantauzzi però sembrano un po' scombinare le carte tirando in ballo anche la persona che era con lui quella sera Una gambizzazione andata male finita in tragedia torna prepotentemente in ballo perché Fantauzzi ha ammesso di aver agito sì ma senza l'intento di uccidere il ragazzo solamente per dargli una lezione non solo a lui ma anche ad un'altra persona che era insieme al 21enne ma soprattutto, ed è la parte sulla quale gli inquirenti si concentreranno su istigazione dell'amico che era con Fantauzzi la notte incriminata Pare inoltre che la parola infame non fosse rivolta a lui ma proprio a chi lo accompagnava persona che successivamente lo avrebbe aizzato convincendolo ad imbracciare un'arma Dunque dopo la discussione il 46enne e l'amico sarebbero andati via dal pub in preda alla rabbia e si sarebbero recati nell'abitazione del presunto omicida per prendere il fucile e tornare nel pub con l'intento di dare una lezione al 21enne e all'altra persona che era insieme alla vittima Poi il ritorno e il colpo che non doveva centrare Bevilacqua ad un occhio ma alle gambe Una volta compreso che il proiettile era stato fatale per il ragazzo Fantauzzi avrebbe desistito dal proseguire la vendetta risparmiando così l'amico di Bevilacqua Dunque la terza persona che fino a qualche ora fa era il super test della ricostruzione dell'omicidio vede aggravarsi la propria posizione perché potrebbe aver riferito ai carabinieri solamente una parte della storia la propria versione quello che lo avrebbe visto meno coinvolto solo con il semplice ruolo di mediatore di chi si era dato da fare per stemperare la rabbia di Fantauzzi dopo il litigio all'interno del pub Una versione che contrasta però con quella resa ieri dal 46enne interrogato per rogatore in un carcere fuori regione che per l'appunto scombina le carte e collima anche con le dichiarazioni della mamma di Bevilacqua che aveva apertamente parlato dell'esistenza di un mandante e di un complice per l'omicidio del figlio Le indagini proseguono da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e non si escludono ulteriori sviluppi per un mistero che continua ad infittirsi Ancora cronaca circa 15.000 euro il bottino di un colpo alla Tercas di Poggio Fiorito in provincia di Chieti compiuto nelle prime ore del mattino con un esplosivo distrutto il Bancomat da cui poi i ladri hanno raccolto le banconote caricate dall'istituto di credito Dopo il colpo i malviventi sono stati visti fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore grigio posti di blocco sono stati attivati in tutto il comprensorio ma finora senza esito Le indagini proseguono coordinate dai carabinieri della Compagnia di Ortona diretta dal Maggiore Roberto Ragucci E la Procura Generale di Perugia ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere dell'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano del Turco e degli altri imputati coinvolti nel processo bis sulla Sanitopoli Abruzzese in corso proprio nel capoluogo Umbro Per tutti il magistrato al termine del suo intervento ha chiesto di rivedere a ribasso le condanne già inflitte in secondo grado all'Aquila Presto potrebbe arrivare la decisione della Corte peraltro nel dicembre del 2016 la Cassazione aveva confermato la condanna di del Turco oggi peraltro presente in aula per induzione in debita ma aveva annullato con rinvio la condanna d'appello riguardante l'accusa più pesante quella appunto di associazione per delinquere per il sostituto procuratore generale Giuliano Mignini non c'è la prova che un sodalizio illecito abbia gestito la sanità abruzzese Andiamo a Pescara adesso manifestazione dei medici di base questa mattina davanti alla sede della direzione generale della ASL per chiedere meno norme burocratiche inutili anche per i pazienti il servizio di Paolo Renzetti I medici di base scendono in piazza oggi c'è questa manifestazione dinanzi alla sede della direzione generale dell'ASL di Pescara Dottor Grimaldi quali sono i motivi di questa protesta? Ultimamente è arrivata una determina da parte di una dirigente della regione Abruzzo la quale questa determina ovviamente obbliga l'assistito a far riempire ulteriori modelli che il medico di famiglia non è tenuto a riempire e quindi c'è questo via vai di assistiti che vanno in riabitazione si vengono a dire no deve tornare indietro è andata all'urologo noi siamo stanchi di queste vessazioni da parte dell'ASL siamo venuti più volte a parlare qui con la direzione ma non c'è stato motivo di arrivare a un accordo abbiamo stilato anche un verbale che il direttore sanitario non ha firmato fino ad oggi ci ha sempre promesso che avrebbe rivisto avrebbe rivisto siamo qui per favorire questi adempimenti per i cittadini che hanno bisogno che comporta di nuovo un aggravio burocratico per noi soprattutto per i pazienti in termini di file di spostamenti e si tratta spesso volentieri di anziani invalidi quindi abbiamo pensato di fare questa protesta giustissima gli altri colleghi del tre province hanno ottenuto quello che noi oggi vogliamo ottenere e raggiungere dalla direzione generale sanitaria dell'Als di Pescara cioè far sì di ritornare a prima cioè dare la possibilità di prorogare noi stessi la possibilità di accedere a questi alla fornitura di pannoloni senza dover addirittura autocertificare questo è previsto da questa determina regionale modalità e frequenza di una propria incontinenza il che è veramente assurdo Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha proclamato con un'ordinanza il lutto cittadino per la giornata di oggi proprio a Lanciano giornata nella quale si svolgeranno i funerali dell'ex vice sindaco e assessore della città Giuseppe Pino Valente morto ieri all'ospedale di Chieti l'ordinanza inoltre dispone l'esposizione a mezzasta in segno di lutto cittadino delle bandiere poste nel palazzo di città ed in tutti gli edifici comunali nello stesso documento è previsto il picchetto d'onore durante il corteo funebre dalla ex casa di conversazione alla cattedrale della Madonna del Ponte per la celebrazione dei funerali torniamo a Pescara adesso approvato il nuovo piano sociale del comune importante contributo della lista Teodoro grazie ad un emendamento presentato e che fra i vari punti prevede la reperibilità di 24 ore degli assistenti sociali chi diceva che ottenuto l'assessorato la lista Teodoro si fermasse nel migliorare delle delibere è sbagliato di grosso perché come vedete come hanno potuto vedere i consiglieri comunali in aula abbiamo presentato un emendamento con una serie di punti che hanno cambiato radicalmente il piano sociale ci siamo soffermati appunto su quello che è il nostro cavallo di battaglio sociale e che noi ritenevamo non essere quello presentato dalla giunta adeguato totalmente all'interesse della comunità i punti più importanti sono una serie innanzitutto la reperibilità degli assistenti sociali riteniamo che una città di 130.000 abitanti deve avere in un stato di necessità la reperibilità degli assistenti sociali non è che se c'è un caso del TG in famiglia si possono creare dei disagi e quant'altro la polizia praticamente si trovava prima impreparata nel risolvere i problemi per cui abbiamo dovuto individuare la reperibilità degli assistenti sociali che poi a ruote a catena potevano individuare delle risoluzioni immediate poi per quanto riguarda la cancelleria abbiamo introdotto erano scomparse le famose borse studio della regione le abbiamo introdotte all'interno del PIS quindi si poteva intervenire e si può intervenire chi vuole attraverso le assistenti sociali per chi ha necessità di comprare quaderni astucci e quant'altro per fornire ai propri figli l'arredamento scolastico e poi ancora l'aspetto riguardante al pagamento delle bollette prima chi si ricava presso le politiche sociali si vedeva pagato non totalmente ma in parte la bolletta noi abbiamo tolto in parte abbiamo sostituito la parola totalmente perché riteniamo che chi si rivolge presso i servizi sociali ovviamente ha un'esigenza impregnante per cui non è che si può chiedere la compartecipazione ma bisogna rilevarla totalmente ai lavoratori della Onewell stabilimento di Atessa sono arrivate le lettere che intimano di tornare al lavoro e di sospendere lo sciopero dura la risposta dei sindacati che non intendono assolutamente retrocedere intanto non è stato ancora convocato il tavolo al ministero dello sviluppo economico inizialmente previsto per il 2 ottobre l'azienda sta praticamente utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione non è la prima ma la terza lettera che scrive i lavoratori minacciandoli cercando in un certo modo di portare le persone ad avere paura di quello che noi stiamo facendo e noi adesso abbiamo deciso questa sera quando comincerà a fare freddo di scaldarci diciamo così bruciando tutte quelle 500 lettere che l'azienda ha inviato perché noi non indietreggeremo di un solo millimetro e perché noi non accettiamo nessun diktat e nessuna minaccia loro vogliono vorrebbero che noi rinunciassimo all'iniziativa di lotta per poi fare una finta discussione con la direzione aziendale loro vogliono vorrebbero che noi in un certo qual modo ci preoccupassimo di più dei clienti per noi i clienti della Anuel sono assolutamente importanti non vogliamo fare del male a nessuno ma lo sciopero è l'unico strumento che oggi noi abbiamo a disposizione per rimettere in discussione questa scelta accelerata di chiudere lo stabilimento quindi non abbiamo paura il senso di responsabilità è forte in noi e risponderemo colpo dopo colpo alle provocazioni dell'azienda il tavolo del 2 ottobre si farà non abbiamo ancora nessuna conferma nel senso che l'azienda sostiene che potrà esserci un incontro solo qualora noi rinunciassimo allo sciopero noi non rinunceremo allo sciopero fino a che non ci sarà un accordo scritto che preveda un piano industriale di rilancio del sito produttivo quindi non siamo ancora in grado di dire se il 2 andremo oppure no ad incontrare l'azienda presso il ministero Aperto questa mattina a Pescara il tratto finale di via Misticoni un passo avanti decisivo nell'ottica della rivoluzione del traffico nella zona di Porta Nuova con un miglior collegamento anche con il Palazzo di Giustizia Via Misticoni aspettava del 2002 l'anno del PUE in cui è stato sottoscritto l'abbiamo portata avanti con grande caparbietà l'amministrazione comunale Alessandrini e insieme a noi anche Porta Nuova 2000 che si è assunta per un obbligo solidale il completamento di questa strada per altri 125 mila euro 650 sono fondi ex-pine recuperati appunto dal comune tramite la regione Abruzzo per gli antellagamenti e ci ricordiamo tutti diciamo le foto di questa zona con macchine sommerse di acqua quindi nuove pompe nuova fognatura e nuova strada oggi veramente siamo felici significa mettere in collegamento tutta la zona del tribunale triplicando quelle che già sono via Marconi via D'Annunzio e via Lento per ricollegarsi a via Lago di Campotosso e per arrivare a quel benedetto ponte Flaiano che ci consente di smaltire molto drastico nella città di Pescara taglio del nastro per via Misticoni consigliere Teodoro lei era stato uno dei primi a credere in quest'opera a credere in questo progetto nella scorsa legislatura ero presidente di questa circoscrizione unitamente all'intero consiglio ci siamo battuti affinché si potesse aprire e completare i lavori di questa arteria ci siamo battuti perché c'era un contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale e l'impresa che non aveva finito di realizzare tantissime opere tra cui la parte della rete fognante di questa cosa fumo chiamati come consiglio di quartiere anche a testimoniare in tribunale di questo ci siamo battuti fortemente e oggi sono contento e felice di poter vedere questa strada aperta perché tanti cittadini ci chiesero per anni che venisse aperta e migliorata la viabilità e oggi siamo arrivati a togliere un bosco una fogna ce l'ha poi aperto una palude e a fare veramente una strada a realizzare una viabilità che permette ai cittadini di muoversi con più serenità e libertà ci spostiamo nell'area vestina adesso perché a distanza di otto mesi potranno iniziare i lavori per la riapertura al traffico della strada provinciale 20 che collega Pianella a Loreto a Prutino interdetta al traffico dallo scorso gennaio il servizio di Vestina News è cominciato tutto il 17 gennaio quando il cedimento della scarpata di sinistra il cui terreno ha invaso l'intera carreggiata e lo scioglimento delle nevi dopo causando lo scivolamento della scarpata di valle portò alla decisione di chiudere il traffico sulla strada provinciale 20 finalmente dopo otto mesi potranno cominciare i lavori per la riapertura della strada provinciale che collega Pianella a Loreto a Prutino in contrada cartiera il 20 settembre infatti è stata approvata la perizia per lavori urgenti che consente il parziale ripristino della transettabilità su una delle arterie più importanti che collega Pianella con i centri della riavestina che quotidianamente viene utilizzata dai lavoratori e studenti che raggiungono i centri della Val Pescara e Chieti l'importo dell'intervento ammonta circa 83.000 euro e prevede l'installazione di un impianto semaforico da parte del comune di Pianella che nel contempo permetterà di eseguire lavori di messa in sicurezza della Scarpata di Monte attraverso il rafforzamento della palificata esistente con una gabbionata per poi ricostruire Scarpata stradale compromessa questo primo intervento commenta il presidente della provincia di Marco consentirà di tamponare le situazioni ristabilendo il transito in sicurezza dei veicoli ma successivamente si interverrà in modo definitivo sul fronte di valle per un ammontare di circa 550.000 euro grazie a un finanziamento della regione Abruzzo destinato alla messa in sicurezza di questa strada e della provinciale 44 tra Scafa e Cepagatti non tarda ad arrivare la replica dei consiglieri di Forze di Libertà che accusano il presidente della provincia di inefficienza nove mesi di attese e disagi sono passati per poi ripristinare l'uso della strada con le modalità che noi stessi avevamo già suggerito alcuni mesi dopo è inaccettabile che migliaia di cittadini dell'area vestina paghino sulla propria pelle la totale incapacità di affrontare adeguatamente i problemi e trovare tempestive soluzioni ci spostiamo a Teramo adesso perché è al via un progetto sulla medicina di genere sostenuto dalla fondazione Tercas in sinergia proprio con la ASL di Teramo la fondazione ha donato all'azienda sanitaria un densitometro per la rilevazione dell'osteoporosi una patologia che affligge e soprattutto le donne il servizio di Tania Bonnici Castelli da oggi l'ASL di Teramo mette a disposizione dell'utenza un densitometro per la rilevazione dell'osteoporosi una patologia che riguarda migliaia di donne a donarglielo la fondazione Tercas che ha sposato un progetto di sensibilizzazione sulla cultura della medicina di genere che cos'è la medicina di genere? la medicina di genere è lungi dall'essere una ennesima rivendicazione femminile è la medicina che studia le manifestazioni delle malattie come si manifestano negli uomini e nelle donne a seconda delle loro specificità non solo da un punto di vista biologico ed anatomico ma anche soprattutto da un punto di vista psicologico e socioculturale quindi è la medicina della persona la medicina del futuro la medicina personalizzata e non è sempre vero che la medicina neutrale penalizza le donne perché ci sta anche una medicina neutrale cioè che non ha attenzione al genere che penalizza anche gli uomini ma fino adesso come si è fatto? ecco e fino adesso si è fatto male perché fino adesso è stata prestata poca attenzione alle donne e quindi di conseguenza è stata fatta una medicina neutrale questa medicina neutrale ha comportato molti rischi una sinergia preziosa quella che si è instaurata tra la fondazione Tercas e l'ASL di Teramo con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutte le donne noi riteniamo che questo sia uno dei tanti progetti che la collaborazione nel tempo ha avviato e concretizzato realizzato con l'ASL chiaramente è una collaborazione che noi riteniamo sia molto importante perché si può lavorare in tanti ambiti e quello di cui parliamo oggi è sicuramente un ambito che ci appartiene che mi appartiene come donna però noi oggi vorremmo rimarcare che la medicina di genere in realtà non riguarda solo le donne ma è un approccio innovativo molto importante che vuole sanare quelle che sono le disuguaglianze tra uomo e donna arriva il densitometro anche a Teramo arriva anche a Teramo arriva grazie al contributo determinante della fondazione Tercas che dopo una serie di procedure è riuscita a installare nell'ospedale di Teramo questa attrezzatura noi crediamo che con questo contributo e con l'apporto della fondazione Tercas potremo continuare a fare anche nei settori della ricerca medica la ricerca sanitaria e della cura nonché della prevenzione delle malattie soprattutto nei confronti delle donne un'operazione che alla fine sarà molto 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 interessante e importante Reabilitazione a casa per le donne operate di tumore al seno l'Aquila per la vita torna alle cure domiciliari grazie ad un protocollo con la ASL finanziato per 25 mila euro dalla fondazione Abruzzo Risorge ormai liquidata creata dalla regione all'indomani del sisma per iniziative solidarie 25 mila euro per la fisioterapia riabilitativa per le donne sottoposte a intervento chirurgico per carcinoma mammario gratuita e direttamente a casa delle pazienti come è sempre stato del resto nello spirito dell'associazione aquilana l'Aquila per la vita fondi che arrivano grazie alla fondazione Abruzzo Risorge ormai liquidata e creata nel dopo terremoto per iniziative di solidarietà un ottimo progetto fatto all'associazione l'Aquila per la vita che ha avuto l'attenzione della presidenza del consiglio di questa regione attraverso dei fondi che noi abbiamo destinato circa 25 mila euro che sono economie derivanti dalla chiusura della ONLUS Abruzzo Risorge creata nel 2009 all'indomani del sisma il progetto si chiama riabilitazione al femminile e partirà grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Aquila per la vita e la ASL un protocollo che ha trovato diversi ostacoli sulla sua strada ma i dirigenti e i tecnici della regione si sono impegnati per saltare gli ostacoli burocratici e arrivare così al risultato importante collaborazione tra l'Aquila per la vita che come sapete è un'associazione di volontari una ONLUS che si occupa di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e poi l'alto apporto che ha visto e ha voluto il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che ha destinato una quota importante per finanziare questa iniziativa per le donne che sono malate di sumore al seno e che grazie a questa collaborazione con l'ASL eviteranno il più possibile di ritornare in ospedale ma avranno l'assistenza e le prestazioni sanitarie nella loro casa Il nostro motto quello dell'Aquila per la vita è le partite più difficili giochiamole in casa e allora abbiamo pensato anche al supporto del Consiglio regionale del Presidente Di Pangrazio attraverso una donazione anche della fondazione della ONLUS l'Aquila l'Abruzzo risorge di acquistare dei materiali utili alla fisioterapia riabilitativa per le donne operate di carcinoma mammario e di andare direttamente a casa delle donne perché tornare in ospedale è sempre uno shock psicologico negativo e allora laddove è possibile noi interverremo con i nostri medici oncologi con i nostri fisioterapisti riabilitatori e andremo a trovare le pazienti lì dove sono meglio a casa loro Adesso apriamo la pagina di sport perché il Pescara prosegue la preparazione in vista del match esterno di sabato pomeriggio al Cabassi contro il Carpi seduta singola quella di oggi per la squadra di Zeman saranno regolarmente presenti in campo Zampano e Coulibaly che dopo lo stop di lunedì ieri si sono regolarmente allenati molto difficile invece il rientro dell'attaccante Mancuso che continua a lavorare in maniera differenziata resta dunque lunga la lista di assenze per il match di sabato chi è a disposizione è il terzino Antonio Mazzotta che in questa intervista parla del suo inizio di stagione è di quello della squadra Andrea Costantini Mazzotta un pareggio a Cremona molto poco Zemaniano zero gol e anche pochissime occasioni un aspetto molto diverso rispetto agli ultimi pareggi intanto sì sicuramente sappiamo che dobbiamo migliorare tanto ci stiamo allenando sicuramente per crescere perché dobbiamo portare dobbiamo portare il campo le cose che ci chiede il mister però giocavamo in un campo difficilissimo sicuramente abbiamo affrontato una squadra buona per la B e niente ci teniamo il pareggio pensiamo alle cose positive che non abbiamo subito gol e niente sappiamo che dobbiamo migliorare tanto senti a volte ci sono dei blackout come si è visto con l'entella come se staccaste la spina quando la partita sembra in controllo perché accadono queste cose secondo te non lo sappiamo veramente nemmeno noi il mister sta analizzando il tutto sicuramente dobbiamo migliorare lavoreremo per far sì che non capitano più queste cose sicuramente ci stiamo portando dietro qualche cosa della passata stagione della retrocessione perché l'ho subito anche l'anno scorso con il Frosinone perché pure noi all'inizio non facciamo benissimo perché subentrava un paura non lo so che cosa subentrava e sono sicuro che col passare di altre partite faremo sempre meglio Antonio la tua precedente esperienza in Biancazzurro non è stata particolarmente felice come giudichi questo inizio di stagione dal punto di vista personale dal punto di vista personale mi sto trovando bene sia col mister con gli schemi con tutto io l'ho detto anche all'inizio io spero io mi vorrei vorrei passare vorrei dimostrare quello quello che non che non ho dimostrato nelle passate stagioni qui a Pescara e niente penso solo a lavorare a dare il 100% in campo e poi a mettermi a disposizione della squadra io sono venuto che volevo rimanere volevo mettere in difficoltà mi volevo giocare le mie carte mi fa piacere che il mister mi abbia voluto tenere qui a Pescara e adesso niente spero solo di ripagare la sua fiducia perché me ne sta dando tanto e niente spero di ripagarlo con le prestazioni in campo e sarà il progetto del nuovo stadio il tema del seminario che si terrà domani pomeriggio dalle ore 16 alla Camera di Commercio di Pescara in collaborazione proprio tra Delfino Pescara e Proger S.P.A. saranno presenti il presidente della Delfino Pescara Daniele Sebastiani l'amministratore delegato di Proger Umberto Sgambati i progettisti incaricati Giovanni Baccarini Roberto Dorazio e Marco Sandrucci l'incontro sarà coordinato da Antonello Ricci il progetto del nuovo stadio del Pescara non è solo l'occasione per affidare ai tifosi un impianto più sicuro e confortevole in linea con le nuove regole dell'UEFA e con le esperienze più recenti dei migliori club europei ma anche un'importante opportunità di sviluppo per la città e la regione dunque il seminario domani alle ore 16 alla Camera di Commercio di Pescara scendiamo in Serie C adesso perché ieri sera ospite dei nostri studi il direttore sportivo del Teramo Giorgio Repetto ha fatto il punto della situazione in casa Biancolosa ha parlato di mercato della sconfitta di Pordenone e anche del campionato che attende il Teramo io sono arrivato qua con la società che mi ha detto che c'erano dei grossi limiti nel poter fare mercato quindi se io ho accettato è chiaro che ho accettato con i famosi nove giocatori fuori rosa diciamo ma non scelti né dalla natura né da me con un capitale per fare la squadra abbastanza ridotto quindi lo sapevamo è chiaro che anche al mercato un piccolo sforzo gliel'avevo chiesto al Presidente ma onestamente non c'erano le possibilità mi sono accorto anche il perché perché un mese dopo la società per pagare lo stipendio di giugno dove potete cacciare fuori i 300 mila euro dell'anno scorso e io penso che noi con 300 mila euro ci paghiamo penso 4 stipendi quest'anno insomma a occhio è una squadra che non puoi riprendere dal punto di vista dell'impegno sia in allenamento sia in partita io oggi se dovessi trovare uno che non si è impegnato non lo trovo io mi ricordo la conferenza stampa di quando siamo stati presentati l'allevatore allora si parlava chiaramente di un anno in cui si cercava e disperatamente eccola qua esatto si cercava disperatamente di salvarsi esatto poi io ho detto pure una volta che ci saremmo salvati è una decisione dell'emergenza lei ha parlato esatto decisione dell'emergenza dopodiché faranno magari persone più brave o la società quello che è ma ma è questa è un'annata la chiami annata zero la chiamala come vuoi ma è un'annata in cui non c'è la possibilità per ricostruire in finita di costruire cercare di mantenere la categoria per poi permettere al teramo di ritrovare i fasti che aveva diciamo assaporato tre anni fa e se la domanda è sei soddisfatto di avere quattro punti tu fammela lo si si il resto sono tutte stronzate voglio dire facevi un gollano la facevi mi sembra un pochettino di confusione Thomas mi ricordo trasmissioni televisive di un po' di anni fa dove si faceva solo C c'era anche il Pescara allora in C e erano le sette sorelle le sette sorelle voglio dire siamo rimasti in due a fare calcio Sansovini alla Fermana che onestamente ha qualche vantaggio economico e basta onestamente avrei preferito non ritrovarselo contro beh avrei preferito sì sì onestamente l'avrei dato più a una squadra o di quarta serie come c'era allora il Mantua in condizione oppure lì probabilmente c'erano delle questioni contrattuali cioè andare nei dilettanti sì no lì c'è il problema che lui ha un contratto ancora per l'anno prossimo col Pescara per cui se vai nei dilettanti perdi lo status da professionista per cui non puoi non puoi più ricevere quel compenso per l'anno dopo quindi te lo dovrebbero anticipare tutto l'anno prima capito assolutamente un po' complicato ma Giorgio Revetto quando rinnova con il Teramo? ma guarda io spero che ci serviamo e poi il Presidente se servono ah cioè proprio arriverete in ex trevis arriverete proprio alla fine ma con lui arriviamo sempre alla fine perché io non gli rompo i coglioni lui non mi dice niente dopodiché o mi caccia o secondo me molto molto sarà dettato dai risultati è normale voglio dire non è voglio dire non devo fare carriera l'unica cosa buona che ho è che non devo fare carriera tra due mesi faccio 65 anni e questo era anche il nostro ultimo servizio io vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione di TV6 a partire da domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 il TG6 invece torna domani puntuale alle ore 14 è tutto buonanotte a partire a partire Grazie a tutti.